matita tascabile in alluminio della victorinox è una matita interamente costruita in alluminio leggero con un pulsantino che serve sul posto sulla sommità che serve per far uscire la mina della matita che si può regolare tramite il pulsantino e poi scrive tranquillamente il ricambio è acquistabile in qualunque cartoleria interamente in metallo semplice funzionale di poco ingombro e leggerissimo